Portano loro da mangiare, spiega una volontaria, per evitare che il branco arrivi in città spinto dalla fame. Escono soprattutto verso sera, le segnalazioni di persone spaventate e infastidite dalla presenza di tanti cani non si contano più. È un problema quello del randaggismo a Trani, troppi gli animali che affolano soprattutto le zone di campagna. Molti ci dicono, vengono uccisi, spesso avvelenati. La soluzione ideale sarebbe la sterilizzazione, che comunque costa. I volontari provvedono per quello che possono, ma adesso non ce la fanno più e chiedono aiuto al comune e alla ASL. L'unica soluzione sarebbero le sterilizzazioni a tappeto, cosa che sinceramente da un po' di tempo non avviene più, soprattutto per i gatti non è mai avvenuta questa cosa, perché la ASL si rifiuta categoricamente di sterilizzare tutti i gatti del territorio e non solo. Alcune volte anche i cani, comunque randaggi, effettivamente siamo noi associazioni le prime a prodigarsi perché questa cosa accada e quindi a nostre spese dobbiamo sopperire alle mancanze di comune e ASL. Noi chiediamo che il comune effettivamente, tra virgolette, faccia la voce molto forte contro l'ASL e gli imponga di sterilizzare tutti gli animali del territorio. Io ricordo al comune di Trani che gli animali randaggi sono di proprietà del comune.